Un grosso albero ad alto fusto è caduto nel cortile all'interno di un condominio a Mestre. L'albero è finito sulla strada e ha parzialmente coinvolto anche un'automobile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. È accaduto in via Fellisatti all'incrocio con via Carducci a Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti in breve tempo per liberare l'auto e la strada dall'enorme arbusto.